Mentre ancora si piangono le vittime del crollo di Genova, a Torre del Greco un'altra notizia ferale arriva a colpire la città del Corallo e la Campania. Sono tre le vittime del Napoletano rimaste sepolte dal fango della piena del Raganello nel parco del Pollino in Calabria. Torre del Greco piange immacolata Marrazzo, 40 anni, avvocato, madre di due bambini di 12 e 10 anni e moglie di Giovanni Sarnataro, anche lui avvocato. La famiglia di Torre del Greco, molto conosciuto e stimata in città, da qualche giorno era in vacanza in Calabria. Durante i drammatici momenti dell'esondazione del torrente, i quattro si trovavano proprio nella gola del Raganello per un'escursione. Giovanni e il figlio maschio Mario sono ricoverati all'ospedale di Cosenza, mentre la bambina Angela si trova all'ospedale di Castrovillari. Il corpo della madre è stato invece ritrovato in tarda mattinata dai soccorritori, che da ieri pomeriggio stanno cercando ininterrottamente dispersi. Dieci le vittime accertate fino ad ora, ma il bilancio è ancora provvisorio. Tra loro anche una coppia di qualiano in provincia di Napoli, Carmen Tammaro e Antonio Santo Paolo, marito e moglie, che facevano parte dei due gruppi di escursionisti travolti dal mostro di acqua e fango, che si è riversato nelle gole del Raganello a seguito di un temporale. Solo una parte degli escursionisti sono riusciti a mettersi in salvo su alcuni scoglie, tra loro due ragazzine napoletane, nemmeno quattordicenni. Sono state le prime ad essere portate all'ospedale di Castrovillari. Avevano vestiti lacerati, senza scarpe ed erano in forte stato di shock. E anche per le morti del Pollino ora si parla di tragedia annunciata. Le gole del Raganello sono una delle zone più frequentate dai turisti, spesso ignari delle misure di sicurezza e non adeguatamente preparati ad affrontare gli impervi sentieri del parco naturale.